Per capire meglio il mondo delle star di Hollywood a quattro zampe, incontriamo Davide e il suo AC, pastore svizzero di sette anni. Caniattore, si nasce o si diventa? Ci si può diventare, non per forza si nasce. Diciamo che le qualità del cane vengono tirate fuori dal preparatore. Vi faccio vedere una condotta formale dove il cane camminerà alla mia sinistra nel mentre mi guarderà. È difficile? Molto difficile. Qual è l'anima?